Buonasera, vi starete chiedendo cosa sia mai successo. La Aniplex ha deciso di inviarmi un fantastico copyright strike a seguito del mio tentativo di chiedere l'utilizzo di una brevissima, ma proprio minuscola percentuale dei clip di Evansville 3 per il mio riassuntazzo, ed ora è probabile anche che sarebbero stati strikerati gli altri due video se non li avessi rimossi. Aniplex? Grandi. Ma al contrario di mio padre, il mio creatore Sharkelle, sono una persona pacifica e pacata, non ho bisogno di incazzarmi così per una cosa del genere. Mi sono ricordato poi che posso disporre di un secondo canale, quello dove vengono ricaricate le lenti Twitch e chi se ne può importare se quello viene buttato giù. Infatti ho provato a ricaricarli tutti e tre lì e stranamente, incredibilmente, si vedono tranquillamente. Perciò per chi se li fosse persi soprattutto la terza parte potete vederla su quel canale, è dove è disponibile a colori nel formato opal. Tante volte, una volta pubblicato questo video, dovesse essere buttato giù anche lì, cosa che sicuramente succederà, neanche ci devi pensare da quanto è scontato, lo potrete trovare direttamente sul Drive, quindi lascerò dei link alternativi sempre qui nella descrizione. Esatto quella box di testo che cliccando su un mostrato si può espandere, che non si incula mai nessuno, ecco quella lì. Ed ora con questo breve video per nulla copiato vagamente ispirato a quello di Yotobi, vi saluto e vi auguro una brutta visione.